Siamo a Sanremo, Radio Bruno Tutti cantano Sanremo È un piacere avere nella nostra splendida postazione qui a Sanremo all'interno dell'hotel Royal Area Stile insomma a Radio Bruno è un piacere di avere Maitre Jim, benvenuti Ciao, grazie, grazie molto È un piacere di averla qui, è un piacere anche per noi avere Daniel che ci aiuterà con la traduzione fuori campo, grazie È un successo incredibile Quando l'hai composta, te l'aspettavi, te l'immaginavi un successo così? È un successo incredibile, quando l'hai composta, è un successo incredibile È un successo incredibile, quando l'hai composta, è un successo incredibile Non mi aspettavo a un successo incredibile Quando l'ai composta, l'ai composta, l'ai appena molto questo titolo Io trovo che era differente da quello che ho chiesto d'habitude Ma non mi immaginavo che l'ai avuto un successo, soprattutto in Italia Mi piaceva molto quando l'ho composta, perché era qualcosa di diverso rispetto a quello che avevo fatto in precedenza Ma non mi aspettavo assolutamente un tale successo, soprattutto in Italia È la tua prima volta qui in Italia? No, però a Sanremo sì E ti esibirai questa sera con Eschietumem? Allora, non è la tua prima volta in Italia, ma sicuramente è la tua prima volta a Sanremo Sì, è la mia prima volta a Sanremo e è un onore di essere qui e di partagere la scena con i più grandi Sono molto pressi e ho lato di montare sulla scena e di poter cantare con i fan italiani e il resto del mondo È un grande onore per me essere sul palco di Sanremo, soprattutto insieme ai più grandi Quindi non vedo l'ora di salire sul palco e esibirmi Parliamo del tuo nuovo album Non bastava un unico CD, perché davvero c'è l'immenso tuo panorama musicale grande dal rap al mainstream E quindi, siccome sei un fan di Matrix, hai deciso di intitolarlo uno pilola blu e l'altro pilola rossa Io ho deciso di fare un album un po' variato, avevo molti soni, e io ho cominciato la carriera con il rapo Quindi ho molti fani, di supporters che mi apprezzano quando io rapo E io ho anche raggiato un nuovo pubblico quando mi sono messo a chanter Quindi ho deciso di divisi l'album in due, con la pilola blu e la pilola rossa La pilola blu contiene dei titoli molto variati, molto cantati, reggaeton, R&B, Hip Hop, Electro un po' E la pilola rossa non contiene solo il rap, un rap molto old school e un po' più moderno Quando il maestro Gims ha iniziato a comprare questo disco, aveva parecchi suoni E quindi siccome lui ha iniziato col rap, aveva parecchi fan che si aspettavano il disco più hip hop appunto Ma siccome aveva iniziato a cantare con l'album precedente, quindi molti aspettavano anche il lato più varietà, più melodico Quindi ha deciso di suddividere il disco in due parti, mettendo nella pilola blu appunto Quello che è più vicino al varietà, la melodia e anche altri suoni Invece quella rossa è più legata all'hip hop, più diretta, più di impatto E c'è una bellissima collaborazione con la star internazionale SIA, com'è nata? La collaborazione con SIA si è fatta veramente naturalmente Io avevo un son che s'appelle « Io te pardone» E io ho immaginato molto SIA su questo Quindi ho deciso di lui proposare, di lui envoyare un mail Quindi con la maison di dischi Sony abbiamo envoyato un mail E lei ha all'inizio appreciato il sonore E lei ha rinvoiato un mail, credo, nella nuova, il giorno E lei aveva già registrato le voce sul morso E lei adora questo morso, e lei piace molto questo morso Ho capito Nel senso che comunque lui adorava SIA Ha inviato una mail di richiesta con le pezzo Ed è tornata indietro con la registrazione di SIA Grazie mille di essere stato con noi È stato davvero un piacere Averti qui in questa serata Prima appunto della tua esibizione sul palco dell'Ariston Grazie mille ancora Grazie mille, grazie a voi Puoi salutare gli amici di Radio Bruno? Ok, ok, c'è Maestro Gims su Radio Bruno Radio Bruno Grazie mille 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 Grazie mille